ciao a tutti buongiorno siamo il 6 novembre abbiamo fatto una spesa la nostra vita è svolta una spesa al despare al despare allora formaggio grattugiato grana padano io l'ho detto ma non c'è neanche scritto io l'ho detto così quindi questo è grattugiato 4 12 allora ea di ciò che non vanta al tiro si è appesato 200 2 218 grammi totale 4 e 12 poi mi scrive le squibbi da quanto pensa sotto qua da 500 grammi 500 grammi cioè non costa tanto popolo 5 65 con il latte così che abbiamo almeno il latte poi merendine ferrero 10 prezzi fiesta l'originale 3 euro e 99 poi se nutella ferrero 220 grammi l'anquadrata si può trarre giusto nutella eccola qua 3 euro e 29 centesimi un chilo di zucchero stress sempre destra 1 euro e 39 già il buono già poi caffè suerte che a me piace tanto mi trovo bene con questo caffè caffè suerte 5 99 numero pomodoro star pomodoro passata allora 1 euro e 69 però meno meno qualcosa meno 70 90 centesimi io l'ho pagato sono due carta igienica molto cara vespano queste quattro pezzi quattro pezzi 3 e 65 ripete arrivate varilla e con le quali quali naturalmente mezzo tutto 1 euro e 25 punti varilla sempre 1 e 25 sempre mezzo giro 1 e 69 basilico peperoni rossi questo è quello qua sono carici abbastanza è proprio cari di spalle sta esagerando allora il chilo sono 3 euro e 99 questi sono 480 grammi un euro e 92 centesimi è abbastanza poi sono passata da oggi hanno e offrezzi un pezzo di salsiccia 5 euro e 50 non era neanche mezzo chilo e a 11 50 vuol dire qualcosa che è scritto e la spesa è finita euro un buon novembre a tutti quanti prendete tutto con calma siamo in un momento triste per noi tutte queste disgrazie queste sciagude di queste piogge piogge terribili che stanno sconvolgendo il mondo c'è da privare molto e da stare cercare ognuno di fare il suo meglio nel suo piccolo saluti a tutti e buone cose e speriamo che questo periodo si metta tutto a posto per tutti per l'italia e per il mondo buongiorno a tutti ciao a presto al prossimo video spesa ciao